Buonasera pubblico di Rossini TV, stiamo registrando le teste di IT Alert, il nuovo sistema di allarme che viene testato quest'oggi, martedì 12 settembre, nella nostra regione, la regione Marche. Mancano pochi istanti alle ore 12 in questa fascia di orario dove la regione appunto si appresterà ad effettuare questo test. Che cosa prevede questo test? Praticamente suonerà con un suono diverso rispetto a quello solito a cui siamo abituati il nostro telefono e andrà ad indicare una emergenza. È appunto un test, come abbiamo sottolineato, la regione Marche è una delle regioni campione per provare questo tipo di piattaforma, chiamiamolo così, questo tipo di messaggistica per prepararsi ad un eventuale allarme e oggi appunto proveremo se di fatto questo qua funziona. Abbiamo qua davanti a me ci sono tre telefoni, vedremo se tutti e tre i telefoni squilleranno per appunto annunciare questa emergenza. Sono le 12.02, abbiamo visto che uno dei tre telefoni è suonato per primo, come possiamo leggere dal testo del messaggio che appunto ci dice questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano, una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Abbiamo visto che è suonato quindi prima un telefono rispetto agli altri due, ha smesso di suonare senza appunto aver cliccato nulla, ora noi clicchiamo ok ed è come se andassimo a disattivare che abbiamo ricevuto il messaggio. C'è da dire che la regione Marche aveva comunicato in questi giorni che il test si sarebbe effettuato tra le ore 12 e le ore 13, abbiamo visto come un telefono ha subito suonato le 12.02, mentre gli altri due non hanno ancora suonato, è comunque un sistema in fase appunto di test e che ricordiamo entrerà in vigore se tutto va bene a partire dal 2024 e che ci segnalerà appunto situazioni di gravi emergenze. Come potete vedere dagli orologi indicati nei dispositivi sono le 12.55 e nei due telefoni che in precedenza non era arrivato l'avviso dell'allarme, ancora ad ora non è arrivato nulla, solamente il telefono questo qua, quello centrale, ha ricevuto il messaggio alle 12.02 per quanto riguarda il messaggio di test di IT Alert. E allora sono passate da un minuto esattamente le ore 13 di questo test, come possiamo vedere anche dai telefoni che abbiamo qua davanti a 9.13.01. Ricapitoliamo un po' questo test che anche noi come Rossini TV abbiamo voluto fare questa mattina perché nella fascia tra le ore 12 e le ore 13 sarebbe dovuto arrivare un messaggio da parte del nuovo programma di test degli allarmi della regione Mark che si sta appunto campionando nella nostra regione, nuovo sistema di allarme nazionale. Il messaggio è arrivato solamente a uno di questi tre telefoni, va però detto che i due telefoni, quello di sinistra e quello di destra sono telefoni che hanno lo stesso operatore, diciamo anche qua, ovvero Iliad, perché sentendo anche un po' con le nostre giro di telefonate altri utenti con questo tipo di operatore non hanno ricevuto il messaggio, mentre alcune delle nostre persone qua in redazione e alcuni dei nostri cittadini che abbiamo sentito con altri operatori telefonici hanno ricevuto il messaggio. In diverse fasce orarie questi due telefoni non hanno ricevuto il messaggio e che cosa fare in questo caso? Come appunto detto dalla regione Mark bisognerà andare sul sito www.it-alert.it e compilare il questionario presente all'interno del sito appunto per segnalare che il vostro dispositivo mobile non ha ricevuto questa tipologia di messaggio. Ricordiamo in conclusione a che cosa serve questo IT-alert, arriverà appunto un messaggio con un suono come abbiamo potuto sentire anche abbastanza forte, appunto inaspettato, diverso dalle classiche notifiche presenti nel vostro telefonino che appunto andrà a segnalare poi quando sarà realtà una situazione di emergenza grave. Ecco, il T-alert funzionerà per questo. Arriverà appunto un messaggio che segnalerà una emergenza in atto e appunto per fare in modo che tutti i cittadini possono cercare appunto di cautelarsi e di prendere le adeguate contromisure.